Buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde. Oggi parleremo della scelta delle preferenze per le supplenze dalle gradatorie provinciali per le supplenze. Manca poco appunto alla domanda. Domanda numero 1. Quando sarà attiva l'istanza per la presentazione delle domande per la scelta delle preferenze per chi è inserito in gradatoria provinciale per le supplenze? La sezione delle istanze online riferita alla scelta delle 150 preferenze per chi è inserito in GAE o in GPS sarà attiva immediatamente dopo il 10 agosto e rimarrà attiva presumibilmente fino al 20 di agosto per presentare le istanze. Domanda numero 2. Quale tipologia di contratto sarà possibile optare in un'unica preferenza tra le 150 esprimibili per le supplenze da GPS? Allora nella stessa preferenza sarà possibile richiedere supplenza annuale fino al 31 agosto chiaramente 2023, supplenza fino al termine delle attività didattiche e dunque fino al 30 di giugno del 2023, supplenza su spezzone da un minimo di 7 ore a un massimo di 17 ore e si potrà anche chiedere completamento orario su stessa classe di concorso o su altra classe di concorso. Domanda numero 3. Nelle preferenze sintetiche di comune o distretto delle 150 preferenze esprimibili come funziona l'individuazione della scuola da parte del sistema informatizzato? Allora è importante sapere che quando si esprime una preferenza sintetica la procedura attribuisce il posto analizzando la disponibilità, le disponibilità su scuole appartenenti a quel comune oppure a quel distretto in un ordine alfanumerico crescente dei codici meccanografici di tutte le scuole incluse in quel comune o in quel distretto. Speriamo che le risposte alle domande che ci avete posto siano utili per il vostro orientamento. Continuate a seguirci sui nostri canali social Facebook e YouTube dove faremo anche delle dirette sulla tematica delle GPS e della scelta delle preferenze e seguiteci sempre nel nostro sito www.tecnicheallascuola.it perché daremo sempre le notizie del giorno. Arrivederci a tutti! Grazie a tutti!